ciao bambini sono la maestra michela dei rosa sono qua nella mia cucina per proporvi un bellissimo gioco guardate cosa ho trovato cercando cercando tra i giocattoli in casa mia una montagna di lego guardate qua sono proprio come quelli che abbiamo a scuola lego di tutti i tipi di tutte le misure di tutti i colori e allora ho lavorato un po e ho costruito delle cose vi faccio vedere che cosa ho costruito ecco qua ho costruito un camioncino e l'ho fotografato l'ho fotografato perché voglio provare a farlo di nuovo insieme a voi vediamo un po sono sicura che voi a casa di lego ne avete un po perciò cercate cercate e proviamo io vi faccio vedere come ho fatto il mio poi voi cercate dei pezzi di lego uguali o anche di un altro colore va bene lo stesso se il camioncino viene blu viene verde viene di tanti colori diversi non importa ma io vi faccio vedere come ho costruito il mio allora per prima cosa servono quattro rotelle e le ruote vanno attaccate su dei pezzetti come questo una ruota va di qua opla una ruota va di là ecco e queste sono due poi con un altro facciamo lo stesso lavoro opla è un po duretto ed ecco opla e così abbiamo le ruote davanti e le ruote dietro poi ho preso due pezzetti lunghi rossi perché il mio camioncino lo voglio fare rosso e li attacchiamo qui due qui e un altro qua vicino eccolo qui poi che cosa ci vuole ci vuole il parabrezza il finestrino davanti eccolo voi potete attaccare un pezzettino trasparente anche più piccolo se ce l'avete o due piccoli per farne per farlo diventare grande è lo stesso poi ho attaccato due pezzettini piccoli rossi uno e due e con questo nero ho fatto il pezzo dietro del camioncino che serve per portare le cose eccolo fatto facilissimo velocissimo wow e corre anche con queste belle ruote ecco qua camioncino uguale però poi ho fatto anche un'altra cosa attenti ah visto una barchetta allora spostiamo il camioncino qui e prendiamo i pezzi per fare la barchetta che sono nella scatola io ho trovato un pezzo a triangolo così per fare la vela un pezzettino giallo da mettere sotto per fare la base un pezzettino a punta per fare la prua della barchetta e l'ho messo qui poi ho fatto il resto della barchetta con un pezzettino da mettere dietro sempre rosso e infine ho attaccato la vela in mezzo opla finita velocissima questa barchetta però è carina voi la potete fare rossa gialla verde ma anche di due colori diversi come vi viene con i pezzi che avete allora spostiamo poi la barchetta e vi faccio vedere un'altra cosa eccolo qua questo è un animaletto un uccellino ho trovato dei pezzettini attenti eccoli qua dei pezzettini azzurri ma come vi ho già detto potete usare i colori che avete pezzettini blu grigi e rossi questi due piccolini rossi non sono neanche uguali ma vanno bene lo stesso li ho usati per fare gli occhi allora questo pezzetto va sotto per fare la base con questi blu piccolini ho fatto le gambette dell'uccellino le zampette una e due con questi due azzurri un po a punta un po a triangolo ho fatto la coda dell'uccellino ecco qua sopra ci ho messo un altro pezzettino azzurro spiovente per fare le ali con quest'altro piccolino blu ho fatto il collo con questo grigio a punta di nuovo ho fatto il becco e poi con questi due piccoletti ci ho messo un po a cercarli però li ho trovati voi fate un po con i pezzettini che riuscite a trovare vedete che c'è questo cerchiettino che permette di attaccare l'occhio il quadretto rosso per fare l'occhio ecco qua un occhio e anche l'altro occhio e lo mettiamo dall'altra parte ecco qui mi piace a me sembra carino allora guardate abbiamo l'uccellino la barchetta e il camioncino che ve ne pare dai adesso provate a cercare i lego se ne avete a casa vostra e costruite o queste cose che ho fatto anch'io se avete gli stessi pezzettini oppure qualcos'altro che vi ispira la vostra fantasia fate una bella foto e poi ce la mandate ok così vediamo sono sicura che sarete bravissimi ciao ciao a presto